Nel Dipartimento di Area Medica della SST Settelaghi vengono ricoverati circa 15 mila pazienti ogni anno. Le infezioni sono tra le principali cause di ricovero e certamente nel paziente ricoverato sono tra le principali complicanze. L'utilizzo indiscriminato dell'antibioticoterapia in questi pazienti nel sospetto clinico di infezione ha chiaramente portato ad un peggioramento dell'antibiotico resistenza e ha esposto i nostri pazienti a potenziali effetti collaterali dovuti all'antibioticoterapia stessa. Da circa una decina d'anni è stata introdotta nella pratica clinica l'utilizzo della procalcitonina nella nostra azienda. Questo ha portato ad un utilizzo più razionale dell'antibioticoterapia, ad una riduzione della durata dell'antibioticoterapia stessa, ad una riduzione dei tempi di ricovero dei nostri pazienti senza esporre la popolazione ad un aumentato rischio di effetti collaterali. Grazie. 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 Grazie.